Musica Ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Continuano le indagini sulla morte di Vincenza Saracino, la donna di 50 anni uccisa e ritrovata a Preganziola, in provincia di Treviso, all'interno di un casolare abbandonato. Colpita con due fendenti al collo, la donna, secondo le prime ipotesi, non avrebbe reagito e questo potrebbe far pensare che Vincenza conoscesse il suo assassino. Sono ore di indagini serrate e continue, nelle quali gli inquirenti stanno valutando ogni elemento utile alle indagini. E ci sono indagini anche in un altro delitto che stanno portando alla luce nuovi elementi. Stiamo parlando dell'omicidio di Giada Zanola che è stata lanciata dal suo compagno dalla cavalcavia sull'A4. Sentite cosa è emerso. Andrea Favero, il camionista di Vigonza in carcere per l'omicidio della compagna Giada, rischia ora l'aggravante della premeditazione. L'uomo ad aprile aveva richiesto al proprio medico una ricetta con la quale acquistare il Lora Zepam, un forte ansiolitico con la scusante di soffrire di insonnia. Di questo medicinale, gli agenti della mobile hanno trovato cinque boccette tra la casa e la Ford C-Max che condivideva con la compagna. Da lui uccise il 29 maggio, lanciandola dal cavalcavia di Via Prati che passa sopra l'A4 a Vigonza. A legare le cinque boccette alla morte della 33enne mamma di un bimbo di tre anni sono le tracce di benzodiazepine trovata dalla consulenza tossicologica della procura nel sangue della donna. Tracce quantitativi importanti che dimostrerebbero la tesi battuta da settimane dagli inquirenti e cioè che l'uomo abbia stordito Giada con il farmaco e poi, inerme, l'abbia portata in macchina sul cavalcavia gettandola in autostrada. Una ricostruzione che apre in modo consistente la strada alla premeditazione del femminicidio. Fondamentale a questo punto sarà l'esame tossicologico sul capello di Andrea Favero, prelevato a metà giugno. Verrà analizzato e se non dovessero emergere tracce di l'orazepam, sarebbe quasi una conferma del fatto che fin da aprile, cioè più di un mese prima dei fatti, con l'acquisto del farmaco l'unico obiettivo di Favero era quello di somministrare di nascosto in medicinale alla compagna, che lo stava lasciando per costruirsi una nuova vita con un'altra persona. Avrebbe chiesto di contattare l'andrangheta per mettere a tacere Marco Travaglio, Selvaggia Luccarelli e una terza persona. Sono queste le accuse mosse da un detenuto nei confronti di Chico Forti, che si trova in carcere a Verona. La Procura ha aperto un'inchiesta e sta indagando per andare a fondo sulla questione della vicenda. Sono stati informati il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Prefettura di Verona, il Tribunale di Sorveglianza, la DDA di Torino. Una delle ipotesi che si avanza sul possibile accanimento contro Travaglio e Luccarelli è il titolo con il quale il giornale di Travaglio il 19 maggio aveva aperto la notizia sul suo ritorno in Italia, scrivendo in apertura benvenuto assassino. Ovviamente sono in corso indagini per ricostruire e delineare l'intera vicenda. Adesso parliamo di un'operazione di polizia, un'operazione della Questura di Padova, che ha portato all'identificazione e all'arresto di quattro persone, tra queste anche un giovanissimo. Sentite cosa facevano. Rapinavano i conducenti delle loro auto, le vittime insultate, minacciate e scaraventate a terra. Uno degli episodi è avvenuto lo scorso novembre in zona Arcella a Padova, ma non sono mancati altri casi simili in città. Quattro giovani tunisini, tra cui un sedicenne, tutti con precedenti, sono indagati dalla Polizia di Stato e dalle procure di Padova e Venezia. In attesa di essere giudicati, sono stati arrestati anche per spaccio e due di loro espulsi e collocati in un centro per rimpatri. Nei confronti di tutti e quattro, le procure hanno già avanzato separate richieste di rinvio a giudizio. A compiere una delle rapine nei confronti di una donna poco più che settantenne è stato il sedicenne. In via Guarnieri, a Padova, la donna aveva rallentato per la presenza di un camion e a quel punto il minore si era infilato in auto, trascinando la signora fuori dal mezzo e scaraventandola a terra per fuggire, poi con l'auto. Episodi di violenza inaudita. Fortunatamente le indagini hanno portato a identificare il gruppetto che, se non fermato, avrebbe continuato a imperversare sul territorio. Gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a recuperare tutte le immagini della rapina grazie a una telecamera presente in zona che ha registrato anche l'audio di quei momenti tremendi nei quali si sentono le minacce alla vittima e le sue grida di aiuto. Un gruppo con alle spalle numerosi gravi precedenti per reati di vario tipo, anche per uno di loro un tentato omicidio. I Colli Euganei diventano riserva della biosfera, un riconoscimento prestigioso che è arrivato questa mattina durante un incontro importantissimo in corso ad Agadir in Marocco. La candidatura, coordinata dall'ente Parco Colli Euganei, è stata riconosciuta per il suo eccezionale valore naturale e culturale, nonché per l'impiego dimostrato nella promozione di pratiche di sviluppo sostenibile che rispettano e valorizzano le risorse ambientali locali. E da un posto meraviglioso del nostro Veneto andiamo in un altro, quello del Lago di Garda. Torniamo a parlare del virus che ha colpito una parte del territorio a Torri del Benacco. Sentiamo che cosa sta succedendo. Dopo l'emergenza del virus a Torri del Benacco arrivano le disdette dei turisti. Confcommercio Verona e Federalberghi Garda Veneto inviano una lettera al sindaco di Torri, Stefano Nicotra. Lo hanno fatto per richiedere un incontro urgente. Le due associazioni infatti nella missiva esprimono preoccupazione per le conseguenze dell'emergenza Norovirus che, sebbene terminata, ha lasciato le imprese locali in una situazione critica. La lettera sottolinea come la comunicazione inadeguata durante l'emergenza abbia generato un allarme diffuso amplificato dai media locali, nazionali ed esteri, in particolare in Germania. Questo ha provocato significativi danni economici alle imprese del settore, con numerose disdette e un impatto negativo sull'immagine del territorio. Alla luce di questi problemi, le associazioni propongono di progettare una campagna promozionale su vasta scala per rilanciare l'immagine del territorio. A Belluno la Guardia di Finanza ha sequestrato 12.000 prodotti tra accessori e gadget ritenuti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Si tratta di un'attività gestita da un cittadino di nazionalità cinese. Il tutto è stato segnalato alla Camera di Commercio. Il titolare adesso rischia una sanzione che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.833 euro. Abbigliamento di provenienza cinese venduto a prezzi molto bassi nel web stanno creando ingenti danni al mercato della moda e dell'abbigliamento introducendo capi con qualità molto bassa che potrebbero essere potenzialmente pericolosi anche per la salute di chi li indossa. A vendere sul web questi capi sono in particolare grosse catene che stanno spopolando. Il presidente di Fermoda Commercio Veneto e Federmoda Ascom Padova, Riccardo Capitanio, ha spiegato che queste aziende non pagano le tasse in quanto il Dazio viene pagato oltre i 150 euro e generalmente gli ordini sono più bassi. Capitanio per tutti questi motivi ha sollevato il problema già da un po' spiegando che intende coinvolgere i parlamentari neoeletti affinché passi velocemente l'intenzione volta a limitare l'ingresso nell'Unione di articoli di abbigliamento di qualità inferiore. E adesso invece parliamo dei problemi causati dal maltempo che hanno provocato danni per milioni e milioni di euro. Sentiamo la situazione con i fondi che arriveranno dal governo. Dopo aver decretato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati da metà maggio agli inizi di giugno in molte province del Veneto il governo e il ministro della protezione civile hanno deciso di stanziare 26 milioni e 100 mila euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali per far fronte ai rilevanti danni subiti dalla regione. Il sostegno riconosciuto contribuisce ad avviare le operazioni di recupero e ripristino delle infrastrutture danneggiate oltre a garantire il sostegno necessario alle famiglie e alle attività economiche duramente colpite dal maltempo. Ora, dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di emergenza sarà avviata una successiva ricognizione per l'accertamento dei danni ai privati e alle attività produttive. Sabato 6 luglio, in prossimità della stazione di Venezia Santa Lucia la Questura, in collaborazione con la Polizia Ferroviaria si allestirà a partire dalle 8.30 a uno stand presso il quale verranno distribuiti opuscoli informativi in lingua inglese per sensibilizzare numerosi viaggiatori e turisti che quotidianamente affollano la città sul fenomeno dei borseggi nonché sulle truffe attraverso il gioco delle cosiddette tre scatolette. L'iniziativa è stata profondamente voluta dal questore di Venezia Gaetano Bonaccorso e si inserisce in un progetto finalizzato a incrementare in modo sempre più efficace l'incessante attività di contrasto a questo tipo di reati predatori. E adesso parliamo dell'ABC dello smartphone. Sentiamo che cosa vuol dire. Il Comune di Vicenza promuove ABC dello smartphone un corso di formazione gratuito che si terrà il 9 luglio dalle 15.30 alle 17.30 al Digital Innovation Hub in via Enrico Fermi presso Confattigianato Imprese Vicenza. Il corso, destinato ai cittadini di tutte le età mira a fornire le competenze di base per l'uso consapevole e sicuro degli smartphone strumenti oramai fondamentali nella vita quotidiana. L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Reti di punti di facilitazione digitale del Veneto finanziato dalla PNRR con l'obiettivo di migliorare le competenze digitali e favorire l'inclusione di almeno 188.000 cittadini veneti entro il 2026. Il corso si rivolge ai cittadini italiani e stranieri over 16 interessati ad approfondire la funzionalità di base dello smartphone. Per partecipare è possibile prenotare un posto chiamando il numero 0444 16 83 11. E adesso una notizia importante. Parliamo di progettualità e del valore della nostra montagna. Sentiamo. La montagna è un patrimonio da tutelare. Dobbiamo creare una macro-regione alpina italiana. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti partecipando alla prima edizione degli Stati Generali dei Comuni Montani del Veneto organizzata da Anci Veneto. Verso la fine di giugno ha preso il via in Senato l'iter di approvazione del disegno di legge per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree montane che disegna l'assetto istituzionale dei territori montani e raccoglie in un testo unitario i sostegni dedicati. Gli enti locali chiedono maggiore copertura finanziarie almeno per un importo pari a quanto attualmente destinato alla copertura delle misure di fiscalità pari a circa 100 milioni. A ciò si aggiunge poi la discussione sulla sanità di montagna e la fiscalità agevolata in regime de minimis per gli imprenditori agricoli. Nel medesimo progetto di legge si vuole inserire anche il tema della gestione dei grandi carnivori che stanno minacciando le attività zootecniche di montagna creando significativi disagi ai malghesi. I problemi della montagna sono noti e negli ultimi anni si sono aggravati a seguito dei mutamenti climatici dello spopolamento con il conseguente aumento della popolazione anziana stanziale e l'esplosione post-covid di un turismo non sostenibile che non ha portato a un incremento di introiti proporzionale al numero delle presenze aumentate. La montagna veneta è un patrimonio di biodiversità e gli abitanti della montagna ne sono i custodi. È importante allora non solo il mantenimento dei prati, dei pascoli, dei sentieri, delle strade forestali per ridurre al minimo i rischi idrogeologici ma anche garantire il sostegno ai servizi essenziali, supportare le imprese e evitare il continuo spopolamento. Obiettivo del Presidente del Consiglio regionale è quello di creare una macro-regione alpina coinvolgendo gli altri presidenti delle assemblee legislative in modo tale da avere delle progettualità comuni e strategie di sviluppo sostenibile condivise. Andiamo adesso in provincia di Venezia, a Santa Maria di Sala, con Erika Bortolato per raccontarvi una serata davvero speciale che si è svolta ieri sera. Giovedì 4 luglio, nella suggestiva cornice di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, è andato in scena lo spettacolo L'Ede Sunshine Inn, a sostegno dell'associazione Dynamo Camp. Un viaggio emozionale attraverso la musica pop, soul e canto autoriale. Un'iniziativa nata grazie all'amministrazione di Santa Maria di Sala. Come è partita questa bellissima iniziativa? Allora, è stata una grande idea di un nostro consigliere comunale che tra l'altro è qui con me, Michael Nebradiga, che ha proprio pensato questa serata collegando il coro NEM con una serata di beneficenza per Dynamo Camp. Un'associazione molto importante che aiuta le persone, i bambini con disabilità e le famiglie di questi bambini. Un'iniziativa che aiuta in qualche modo anche ad avvicinare il cittadino rispetto a delle realtà a loro sconosciute, lontane. Assolutamente. Questo è un evento che ci permette di raccogliere fondi grazie alla generosità dei nostri cittadini che hanno partecipato veramente con grandissimo entusiasmo a questa serata. Allo stesso modo però abbiamo avuto degli sponsor importanti che hanno contribuito a realizzare questa serata oltre ad una donazione del Comune di Santa Maria di Sala. L'evento ha permesso di consegnare a Dynamo Camp la somma di 6.315 euro per finanziare i programmi di terapia ricreativa Dynamo oltre a diffondere il grande lavoro di questa associazione. Possiamo sensibilizzare su questo tema e quindi avvicinare chi non conosce queste realtà, queste difficoltà attraverso un'esperienza quasi diretta, insomma un racconto diretto di ciò che avviene e di cosa si può fare anche perché la terapia ricreativa è fondamentale il divertimento è proprio un'azione terapeutica che Dynamo Camp ci aiuta a comprendere. Un'associazione molto importante che dà assolutamente supporto ai ragazzi ma non secondario dare supporto anche alle famiglie. Assolutamente sì, il bello di Dynamo Camp che possono venire sia le famiglie che i ragazzi. Dynamo Camp è l'unica realtà in Italia dove ospitiamo gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche il che lo facciamo in maniera forma totalmente gratuita. I ragazzi si tornano a essere ragazzi, i bambini quindi fanno gli scherzi tra di loro fanno le puzzette, cose che magari a casa non potrebbero mai fare. Le famiglie tornano a essere coppie. Mi ricordo sempre la prima famiglia che un giorno mi ha detto Alberto, posso prendermi il caffè due minuti? Tornano dopo un quarto d'ora e mi hanno ringraziato perché erano dieci anni che non prendevano un caffè. Quindi questi sono i piccoli attimi di felicità. Quindi è un riuscire a ridare anche quella normalità anche in una situazione magari meno convenzionale. Assolutamente sì, il bello è che queste famiglie arrivano lì c'è uno staff sanitario che li può seguire 24 ore su 24 ma noi volontari siamo sempre con i ragazzi quindi loro possono affidareci il loro bambino e anche se vogliono farsi una passeggiata noi siamo lì con loro durante i periodi di pausa previsti da Dinamo. E adesso l'appuntamento è con l'approfondimento di storia allora diamo subito la linea a Marisa Sottovia. Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo degli antichi ospedali di Padova, San Francesco e Giustinianeo e dei loro fondatori. Il primo ospedale di Padova fu l'ospedale San Francesco evoluto dai conogi Sibilla De Cetto e Baldo dei Buonaffari nel 1414. Sibilla De Cetto era una nobile donna padovana nacque nel 1350. Il padre era un ricco commerciante e proprietario terriero. Sibilla in prime nozze sposò Naseri, il Buonacorso che era di Montagnana ed era un consigliere di Francesco da Carrara ed era anche un giure consulto. Senonché nel 1388 il Buonacorso si schierò con Gian Galeazzo da Milano che era nemico di Padova e dei Cararesi. Al suo ritorno Naseri fu giustiziato, era il 1390, in piazza dei Signori. Sibilla rimase vedova e si risposò in seconde nozze con Baldo dei Buonaffari di Piombino che è una località della Toscana e si trovava a Padova per lo studio del diritto. Inoltre era il consigliere di Francesco Novello dei Cararesi. La coppia abitò nel palazzo di fronte al Duomo e non ebbe figli ed erano conogi molto ricchi. A un certo punto decidono di costruire un ospedale, una chiesa e un convento per la salvezza della loro anima e per aiutare i poveri e i bisognosi. È così che nell'ottobre del 1414 viene posta la prima pietra in via San Francesco. Questo ospedale ospita, può ricoverare dalle 50 alle 250 persone, è aperto a tutti e soprattutto ai poveri, al di là delle loro condizioni. Ma nel tempo ovviamente diventa insufficiente e quindi si passa a un altro ospedale. Però ricordiamo che in questo ospedale inizia la cura diretta del paziente con il medico che si reca al capezzale grazie agli insegnamenti del professore Gian Battista De Monte che appunto inizia così la medicina clinica. Andiamo al secondo ospedale che appunto se ne fa carico il vescovo Niccolò Antonio Giustiniani e affida il progetto all'architetto Domenico Cerato. Giustiniani era un discendente di famiglia nobile veneziana, nacque nel 1712 ed era un uomo devoto, instancabile, generoso che appunto volle realizzare questo ospedale e mise a disposizione i suoi beni, la sua argenteria, chiedeva elemosine a tutti per far fronte alla Somma, inoltre inventò anche il gioco del lotto appunto per recupero delle Somme. L'ospedale fu posta alla prima pietra nel 1778 e ci vogliono vent'anni per la sua costruzione, infatti fu inaugurato nel 1798, però il nostro vescovo Giustiniani non fu presente in quanto morì due anni prima. Fu un ospedale, il primo ospedale pubblico nella storia, aperto a tutti al di là delle condizioni economiche. Questo ospedale poteva contenere 500 ricoverati contemporaneamente. Ma anche qui le esigenze cambiano, i tempi cambiano e quindi c'è la necessità di altri ospedali e vengono costruiti policlinico e monoblocco. Come noto, attualmente siamo in attesa di un altro ospedale più grande, più impegnativo, che appunto dovrebbe essere realizzato in tempi recenti. Andiamo, torniamo a Siviglia de Ceto, questa donna straordinaria che di recente le è stata intitolata una sala al Palazzo del Capitanio, Piazza dei Signori, appunto per sottolineare la sua generalità, la sua disponibilità e quindi per essere ricordata. Al luogo dell'ex ospedale San Francesco c'è il Museo della Storia della Medicina, che appunto racconta la significativa, importante storia della medicina dal punto di vista scientifico, anche per quello che è stato il contributo dell'Università di Padova nei secoli, un museo multimediale molto interessante e come sempre noi consigliamo una visita. Grazie a Marisa Sottovia per l'appuntamento dedicato alla storia. Vi ricordo che tutti i nostri servizi, comprese anche le pillole di storia, sono disponibili nel nostro canale YouTube Telecittà Official Channel oppure all'interno della nostra app scaricabile in tutti gli smartphone. Uno sguardo alle condizioni meteo, l'alta pressione tenderà a indebolirsi tra sabato e domenica, quando il Veneto sarà lambito dalla parte più meridionale di un'area ciclonica con nucleo tra Gran Bretagna e Scandinavia, mentre lunedì si rinforzerà. Il graduale aumento delle temperature sarà la caratteristica saliente, valori in prevalenza non distanti dalla media nel fine settimana, poi sopra la media. È tutto per questa edizione, grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento. Grazie per la visione! Grazie per la visione!